Musica Venerdì 28 gennaio 2011 nella Galleria di Via Larga in Via Cavour a Firenze si inaugura la prima mostra collettiva degli artisti paiolanti del 2011 dopo la grande festa di conclusione del 2010 tenuta come ogni anno a Villa Viviani il Paiolo riprende l'attività espositiva e la collaborazione con l'assessorato alla cultura della provincia di Firenze proponendo una mostra collettiva degli artisti paiolanti, sono circa 24, al piano terreno della Galleria invece al primo piano dal quale in questo momento vi stiamo parlando viene inaugurata contemporaneamente alla mostra collettiva la mostra personale dell'artista Antonella Bardi che ci verrà presentata insieme alla mostra dal presidente dell'antica compagnia del Paiolo commendatore Giuliano Borselli Bene, Borghini ha già detto tutto della programmazione quindi riapriamo quest'anno e faremo tanti festeggiamenti questo è l'inizio del 2011 perché abbiamo una ventina di ricevimenti e riunioni abbiamo fatto un bel programma di manifestazione e quindi però stasera è piacere che è venuta la nuova paiolante che io ce l'ho qui accanto buonasera ed è la signora Antonella, professoressa Antonella Bardi vieni da Montesperto vengo da Montesperto quindi viene anche su... è da Poggi Bonsi è da Poggi Bonsi benissimo quindi abbiamo avuto il piacere di averla come paiolante e poi anche come piacere perché io ho visto questa mostra è bellissima perché insomma è un encolage ma ora quando la vedete in televisione avete anche... date anche i vostri giudizi però come sempre noi consigliamo i telespettatori di venire a vederla personalmente anche perché avranno occasione di incontrare l'autrice di queste composizioni io le ho messo la cuccarda anche per far riconoscere siccome è nuova ora quando andiamo sul piano di sotto e diciamo quella è la nuova e la riconoscono subito ecco ora passerei la parola all'architetto Andreoli che ce l'ha presentata lui l'architetto Andreoli è legato da tanti anni a Montesperto lì ne conosce bene il territorio e quindi ha scoperto questa ennesima risorsa del territorio di Montesperto l'hai detto però è stata una scoperta per me perché ho veduto una mostra che l'hai aperta a Montelupo non molto tempo fa a Montesperto non a Montelupo a Montelupo alla banca di Cambiano e sono rimasto sorpreso nel vedere queste opere io non conoscevo e tanta è stata il mio entusiasmo e ho detto se ti interessa posso accompagnarti accompagnarti fino all'incontro del Presidente e diventare una paiollante c'è stato questo incontro è piaciuto anche al Presidente e il risultato è questo vediamo queste opere sono fatte tutte con sentimento capacità tecnica e maniera che risultano con l'uso di materiale naturale e quindi adoprando la natura la natura non tradisce mai qualche volta tradisce ma non in questo caso no in questo caso non è stata veramente una scoperta va bene allora le facciamo presentare direttamente dalla professoressa Bardi allora benvenuta nella nostra rubrica incontri con l'arte è la prima volta che ci incontriamo e quindi lei dovrebbe anche presentarsi ha già detto che è originaria di Poggi Bonzi in Val d'Elsa e si è trasferita a qualche chilometro in collina a Montespertoli sì e grazie appunto alla mia vita che da piccola all'età circa di nove anni io mi sono trasferita da Poggi Bonzi in un piccolo borgo medievale a Linari nelle colline appunto toscane e da lì ho iniziato a raccogliere i primi fiori da bambina e questa passione così poi è diventata sempre più importante per me fino appunto a circa 12 anni fa ho iniziato a mettere da parte a raccogliere ancora a seccare le piccoli segmenti della natura e scomponendo e ricomponendo qua davanti a me appunto come vedete queste che mi rimangono davanti sono le prime opere a carattere più artigianale mentre invece andando avanti con le ricerche anche con lo studio io ora sto cercando di usare spazi più ampi più massicci dove appunto la natura viene in un certo modo anche inquinata questa è una metafora appunto della natura e in cui lo sguardo si perde e si ritrova c'è uno studio anche legato all'equilibrio al centro che si perde anche questo e rinasce e forse un po' contaminato anche dalla mia passione che è la danza in cui appunto l'equilibrio è la prima materia diciamo del danzatore e questa ricerca complessa ha dato origine a tutte queste opere a questo risultato complimenti e auguri per la mostra grazie concludiamo il servizio dalla galleria di Via Larga con Pier Francesco Listri che ci presenterà con una breve chiosa critica anche la mostra d'esordio di Antonella Bardi e poi la consueta rassegna degli artisti la collettiva degli artisti del Paiolo sono tanti gli artisti quindi sono tante anche le mostre collettive nel corso dell'anno per dare modo a tutti di presentare in questa splendida vetrina che si affaccia su Via Cavour le opere recenti si cominciamo proprio dalla collettiva qui in Via Cavour sotto la provincia accanto al Palazzo Riccardi il nostro Paiolo prosegue i suoi appuntamenti anche la collettiva di oggi è di direi di eccellente qualità anche perché nell'antica e fortissima tradizione della fiorentinità paesaggistica questa volta ci sono autori vari io non vorrei fare nomi ma uno lo faccio quello di Asmone per esempio che dipingono in modo non figurativo ma con grande qualità poi c'è paesaggi ci sono figure ci sono ritratti ci sono alcune incisioni bianco e nero molto belle insomma è una mostra di assoluta dignità e il nostro Borselli ha fatto un'altra volta centro ma quello che mi ha diciamo stupito è l'esordio di Antonella per una volta comincio dal catalogo in genere io i catalogo non li guardo neanche ma qui dice la natura nel frammento ora natura vuol dire la naturalità la natura vegetale frammento vuol dire quello che ogni artista fa ricompone un cosmo attraverso i frammenti e poi dice da artigianato decorativo a materiali d'arte che direi è una molto modesta indicazione di un reale itinerario qui la prima cosa che colpisce è da un lato la materia cioè la fragilità in molte di queste cose delle foglie del materiale di partenza dall'altro l'eleganza la straordinaria eleganza ma guardando più a fondo è un vero alfabeto figurativo che fatto appunto di eccellente eleganza raggiunge una sua come dire ragione corposità espressiva molto forte di rado visto collage così bello ci sono poi delle prove di diverse quelle sulle città invisibili di calvino una prova di un ardimento eccezionale perché calvino è uno dei più grandi autentici scrittori della parola e anche qui c'è proprio alle mie spalle una una rete vorrei dandogli la più nobile dei significati una ragnatela di grazia che è straordinaria ecco parlerei per questi quadri di ragnatele di grazia con in più una goccia di quell'assenzio che dice in ogni pittura vera la sua verità grazie per Francesco Listri con il suo intervento si conclude il servizio realizzato venerdì 28 gennaio 2011 nella galleria di via Larga in via Cavour a Firenze dove si sono inaugurate contemporaneamente due mostre quella personale della professoressa Antonella Bardi neo paiolante e quella collettiva degli artisti paiolanti della quale fanno parte gli artisti Giuliano Albani Andrea Alfani Aldo Andreoli Domenico Asmone Alfredo Bardazzi Fernando Bernardini Marcello Bertini Mario Brandaglia Daniele Castagnoli Antonio Cerra Marco Chiarini Alfredo Cifariello Luciano Consigli Giuliano Corsi Marco Fabri Luigi Falai Giuseppe Manuelli Enzo Pazzagli Onofrio Pepe Eugenio Taccini Luigi Tamanini Paolo Vannini Versus ovvero Giuseppe Verso Paoletti e Venanzio Volponi la mostra collettiva è ospitata al piano terreno della galleria mentre la personale si trova al primo piano entrambe saranno aperte fino al prossimo 8 febbraio e saranno visitabili tutti i giorni della settimana escluso la domenica dalle 15.30 alle 18.30 e Grazie a tutti. Grazie a tutti.